Terza domenica di avvento Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo le folle interrogavano Giovanni, dicendo, — Che cosa dobbiamo fare? E rispondeva loro, — Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero, — Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro, — Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. — E noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro, — Non maltrattate, e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa, e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti, dicendo, — Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia, e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Commento al Vangelo della Domenica di Don Luigi Maria Epicoco In quel tempo le folle interrogavano Giovanni, dicendo, — Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro, — Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Infatti, credo che non ci sia nessuna maniera migliore per prepararci al Natale, se non allenandoci alla condivisione. Condividere significa fare spazio all'altro, accorgesti di lui, permettergli di entrare nella nostra vita. Solo chi riesce a fare spazio al fratello che ha accanto, allora ha abbastanza spazio da accogliere Cristo. Ma senza questa disposizione del cuore, il nostro è un presepe intasato. Non c'è posto per ciò che conta, perché è tutto pieno di ciò che importante non è. Grazie a tutti.